bene allora benvenuti a tutti bentornati a questa sessione pomeridiana del nostro incontro sudante e questa sessione si apre vede la partecipazione di alessandro vettori di ermina di sino e di magdalena maria cubas quindi cominciamo senza perdere altro tempo con alessandro vettori siamo onorati di averlo qui tra noi come ospite ancora una volta viene da dire quindi perché ci siamo già visti questa settimana e alessandro vettori si è formato la iei gli university dove ha conseguito il dottorato nel 1995 ha insegnato a princeton alla university of virginia e dal 1999 insegna lingua e letteratura italiana e letteratura comparata alla rotgars university in new jersey si interessa prevalentemente al medioevo e molte pubblicazioni in particolare sulla spiritualità francescana e ha pubblicato degli studi molti studi su francesco jacopone ed è un dantista di fama tra le sue numerosissime pubblicazioni ricordo soltanto dante sprayful pilgrim typologies of prayer in the comedy e mi scuso anzi se l'ho come dire se l'ho fatta così così breve e consegno la parola a alessandro vettori grazie beh ringrazio francesco carofalo di questa questa presentazione e in particolare vorrei però ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori della conferenza quello che ho potuto seguire questa mattina è stato veramente molto molto interessante molto intenso da un punto di vista anche di partecipazione del pubblico e che secondo me è sempre un indice di grande interesse suscitato dagli interventi io stesso avrei avuto delle domande che però poi nel corso della discussione sono state già affrontate e quindi mi sono astenuto da fare delle domande e il mio intervento di oggi è un intervento che in parte ha delle radici su un discorso già avviato che aveva avviato già in occasione di un convegno torinese fra l'altro organizzato anche dalla collega ermina ardissino in ottobre scorso e però si sta sviluppando poi in direzioni varie e in questo contesto vorrei appunto presentare quello che riguarda la santità o più specificamente diciamo la spiritualità francescana di dante molto è stato scritto sui rapporti fra dante e il francescanesimo dagli studi per esempio di raul manselli a quelli più recenti di nicolas haveli e di ronald herzman e infine alla collettanea pubblicata presso la collana di studi francescani dell'abril e raccolta da santa casciani circa una quindicina di anni fa ma credo nonostante la importanza e la profondità di questi studi che ci sia ancora molto da dire soprattutto sulla spiritualità francescana di dante in quanto improntata sul concetto di povertà ed è su questo che io partendo proprio da tale virtù fondamentale del francescanesimo che vorrei rileggere alcuni passi della dell'opera dantesca in particolare della commedia ho una powerpoint che vorrei condividere con voi e quindi vedo di fare subito la condivisione del mio schermo ok visualizziamo lo schermo adesso ecco la vedete bene in formato tutto schermo bene quindi dicevo il mio ragionamento procede attraverso un'analisi che nella dantistica si definisce di solito la lettura verticale come potete vedere questi saranno i tre canti che di cui mi occuperò e appunto coinvolge i tre canti numero 11 della commedia se paradiso 11 rappresenta il canto francescano per eccellenza con la biografia poetica dantesca di francesco e la storia del suo ordine purgatorio 11 interpreta un altro concetto francescano molto legato alla povertà ovvero l'umiltà come antidoto alla superbia di cui si sono macchiate le anime della prima balza della montagna purgatoriale mentre l'usura e il desiderio smodato di ricchezza vengono trattati da virgilio in inferno 11 anche se si fa riferimento ad avari e prodighi già in inferno 7 e il peccato di usura verrà poi ripreso e descritto più estesamente in inferno 17 da questi canti infernali vorrei partire per comprendere meglio la posizione di Dante riguardo alle questioni economiche all'amministrazione del denaro e la sua opinione sull'accumulo di beni e sulla ricchezza il filo del discorso che seguirò parte quindi da questioni di finanza e di capitale si allarga all'importanza data alla povertà in ambito religioso in generale e francescano in particolare e prende infine in esame i legami fra povertà e umiltà la condanna dantesca del denaro avviene molto spesso in relazione alla corruzione della chiesa che ha deviato dalla sua missione spirituale per invischiarsi in affari temporali il momento chiave di tale cambiamento di rotta è la donazione di Costantino che Dante giudica all'inizio di tutti i mali che affliggono la chiesa a lui contemporanea e che egli condanna ripetutamente e senza mezzi termini in Inferno 19, 115, 117 in Purgatorio 32, 124, 129 e poi in Paradiso 6, 1, 6 e Paradiso 20, 55, 60 ma Dante scaglia poi i suoi strali anche contro l'accumulo di ricchezze fra i laici in Inferno 6 chiama Pluto, il dio della ricchezza, messo a guardia del quarto cerchio il gran nemico sotto il cui controllo si puniscono in Inferno 7 avari e prodighi i quali, poiché con misura nullo spendio ferci al verso 42 sono costretti a spingere pesanti macigni con il loro corpo a significare la pesantezza della ricchezza che hanno venerato in terra mentre i due gruppi, contrastanti gli uni all'altro gridano perché tieni e perché burli al verso 30 per ricordarsi a vicenda appunto il peccato commesso di uno smodato accumulo o dispreco del denaro in Inferno 11 si chiarisce, citando l'etica di Aristotele che questo è un peccato di incontinenza la quale con il suo significato di mancanza di moderazione o di autocontrollo è legata al concetto aristotelico di dismisura il testo sottolinea due elementi in particolare numero uno, la grande moltitudine di gente in questo cerchio in rapporto ad altri gruppi di peccatori qui video gente più che altrove troppa dice Dante al verso 25 e numero due, si sottolinea come la maggioranza di coloro che hanno peccato per la cattiva amministrazione del denaro furono degli ecclesiastici alla domanda di Dante se tutti fuor querci scusate, se tutti fuor querci questi quercuti alla sinistra nostra quindi se tutti furono tonsurati questi alla sinistra nostra Virgilio risponde dicendo tutti quanti fuor querci ma poi conferma subito dopo nel passo successivo il sospetto dantesco dicendo che la maggioranza degli avari sono in effetti tonsurati questi fuor querci che non ha coperchio piloso al capo e papi e cardinali in cui usa avarizia il suo soperchio molto più grave invece è il giudizio dantesco sull'usura che viene posta fra i peccati di violenza contro Dio in Inferno 11 quando Virgilio spiega la struttura del cono infernale e la disposizione dei peccati al suo interno descrive gli usurai come appartenenti alla terza zona del secondo anello del settimo cerchio insieme a bestemmiatori e peccatori contro natura anche l'usura come spiega Virgilio citando l'uno di fianco all'altro la fisica di Aristotele e il libro biblico della Genesi è da considerarsi oltre che il peccato di violenza contro Dio anche il peccato contro natura la natura spiega Virgilio prende le mosse dall'intelletto divino e da sua arte ovvero dalla sua creazione e l'arte umana intesa come tecne non soltanto come espressione artistica ma anche come creazione manuale come creazione artigianale e più generalmente lavorativa si ispira appunto alla natura e essendo della natura figlia è anche nipote di Dio il lavoro e il guadagno che ne seguono sono quindi derivati direttamente o indirettamente da Dio secondo il passo della Genesi Genesi 3, 17-19 la condanna dell'uomo è di doversi guadagnare il pane con il sudore della fronte al contrario l'usura in quanto accumulo di denaro che non presuppone la fatica del lavoro ma solo l'attesa che il denaro accumulato produca interessi e quindi ricchezza è da considerarsi peccato violento contro Dio stesso è per questo che la tabula exemplorum ovvero la raccolta di racconti morali ed exempla sapienziali del XIII secolo definisce come latrones come banditi gli usurai dal momento che vendono non mercanzia ma il tempo che non appartiene a loro ma appartiene a Dio come sottolinea Jacques Le Goff nel suo studio sull'usura nella spiritualità medievale il tempo è dono di Dio all'umanità affinché lo utilizzi per salvarsi nell'iconografia tardo medievale gli usurai vengono rappresentati sul letto di morte con una borsa attaccata al collo o alla vita una borsa che simbolicamente conteneva il denaro che avevano guadagnato illegalmente e che in punto di morte avrebbero dovuto restituire la rappresentazione degli usurai di Dante contiene delle forti somiglianze con questa immagine il pellegrino li scorge infatti seduti sotto una pioggia di fuoco sotto la pioggia di fuoco di questo cerchio che cade su tutti i violenti contro Dio con un sacchetto la chiama una tasca Dante che pende loro dal collo e sulla quale è inciso lo stemma di famiglia grazie al quale si possono riconoscere almeno alcuni di loro cosicché il poeta li può svergognare proclamando pubblicamente il loro peccato purtroppo non ho trovato nessuna rappresentazione su internet che potesse rendere l'idea degli usurai ci sono molte rappresentazioni dei peccatori contro natura e anche di Capaneo peccatori dei bestemminatori ma non non ho trovato niente che mi soddisfacesse per quanto riguarda gli usurai Dante condanna quindi la sete di denaro e di ricchezze degli usurai ma anche l'abbandono degli antichi codici cavallereschi che abbinavano alla ricchezza finanziaria la novità cortigiana per votarsi a una cultura totalmente incentrata sull'accumulo del capitale la critica dantesca sembra rivolta direttamente alla recente trasformazione della cultura fiorentina che dall'agricoltura e dal commercio era passata alla finanza creando nuova ricchezza tramite il cambio e il prestito del denaro pur se Dante muore troppo presto per dare testimonianza alle ingenti ricchezze accumulate da importanti famiglie fiorentine quali i bardi i peruzzi e gli acciaioli tramite appunto la fondazione di istituti bancari che faranno di Firenze il centro finanziario europeo della metà del quattordicesimo secolo e che faranno poi anche la fortuna artistica della città tramite molto più tardi naturalmente tramite il mecenatismo mediceo dei secoli successivi il poeta non esita però a mettere in mostra e a denunciare le famiglie alcune famiglie quali i Gianfigliazzi gli ombriachi gli scrovegni fiorentina le prime due e invece padovana la terza che sono fra le famiglie identificate dagli emblemi che vede Dante in Inferno 17 come sottolinano Rachel Jacob e Teodorinda Barolini è interessante che pur se la tradizione ci ha tramandato la figura dell'ebreo come prestatore gli usurai di Dante sono invece tutti cristiani l'usura fa vibrare anche una corda familiare per Dante poeta dato che la famiglia di Dante era forse implicata in questo peccato come sottolinea con abbondanza di fonti la recente biografia di Alessandro Barbero Dante non è il solo a denunciare gli eccessi della cultura del denaro che viene considerata in contraddizione con l'immagine di un Cristo povero alla ricerca dell'essenzialità spirituale tramandata dai Vangeli ai numerosi movimenti ereticali quali ad esempio i poveri di Lione che poi diventeranno la chiesa valdese si aggiungono le opposizioni all'interno della chiesa ad esempio quella dei cistercensi i quali nell'undicesimo secolo riformano l'ordine benedettino proprio applicando la regola del lavoro agricolo opposto alle ricchezze fondiarie di altri ordini sempre sotto il nome dei benedettini quali per esempio i cluniacensi proponendo il cistercense Bernardo di Chiara Valle come sua terza guida Dante prende posizione a favore dei nuovi ordini poveri ma è soprattutto tramite i francescani che si afferma l'opposizione alla ricchezza all'interno dell'ortodossia della chiesa romana L'episodio cruciale che riassume letteralmente e metaforicamente l'importanza di ritornare dall'opulenza mondana all'essenzialità e purezza edenica è rappresentato dalla spoliazione pubblica di Francesco sulla piazza San Rufino così come questa è narrata nella biografia di Buonaventura da Bagno Regio ma poi anche in tutti gli altri testi della leggenda francescana da Tommaso d'Acelano in poi e che è passata poi in tutta l'iconografia successiva giottesca come in caso di questo affresco o no Francesco si spoglia e rimane nudo come Eva e come Adamo nel giardino dell'Eden per manifestare l'aspirazione alla purezza perduta ma restituendo i panni al padre rinuncia anche alla ricchezza a vita della famiglia che è commerciante di stoffe per lasciarsi avviluppare dalle braccia e dal mantello del vescovo suo padre spirituale che vediamo qui nell'immagine ha subito dietro Francesco che è il suo nuovo padre spirituale che lo accoglie umile e privo di qualsiasi difesa forti analogie si hanno con la scena altrettanto icastica del denudamento del re Davide in Purgatorio X rappresentata in uno dei bassorilievi di umiltà che servono da esempio ai superbi della prima cornice qui ho scelto delle rappresentazioni non molto tradizionali ma che vi danno un'idea di come il re Davide è stato poi rappresentato nell'iconografia questa è abbastanza comica anche il re Davide che accompagna l'arca e balla con con l'abito sacerdotale che è praticamente un perizoma l'assenza di indumenti e la danza scatenata del re di fronte all'arca santa vengono derisi dalla superba moglie Michal ma sono invece apprezzati da Dio che punisce Michal e garantisce invece alle anime contemplanti questo bassorilievo quindi le anime che ammirano il bassorilievo il dono di vederlo muoversi quasi fossero presenti alla vera scena narrata e narrata cioè nel secondo libro di Samuele al capitolo 6 versetti 1-23 e che non fossero invece semplicemente davanti a una statica scultura di marmo quindi nel momento in cui le anime e Dante stesso contemplano questi bassorilievi li vedono muovere come se fossero presenti di fronte alla scena vera Dante definisce questa sinestesia che permette a chi contempla di sentire anche il suono della musica e dei canti e di percepire l'odore dell'incenso che emana dalla scena un visibile parlare definendo quindi in termini poetici la figura retorica in questione è presente anche qui il concetto di techne di lavoro artistico che nel contesto miracoloso della montagna purgatoriale unisce e riassume la creazione divina e l'arte umana quindi figlia e nipote di Dio sono qui la stessa cosa dato che le sculture non sono frutto del lavoro artistico umano ma sono invece forgiate direttamente da Dio questo secondo quello che afferma proprio il poeta nel canto la riflessione la riflessione dantesca su umiltà e superbia spesso che spesso assume dei toni abbastanza contraddittori si articola meglio in purgatorio undici laddove si insiste sulla futilità della celebrità umana raggiunta tramite talenti naturali ma anche con il duro lavoro di applicazione per esempio nell'arte dell'illuminazione con Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese oppure nella pittura con Cimabue e poi Giotto o anche forse la parte più importante quella della poesia dove i due Guido Guido Winicelli e Guido Cavalcanti verranno presumibilmente superati da colui che sta scrivendo da Dante stesso il ragionamento dantesco tende a svalutare la vanagloria associata al successo e l'orgoglio che ne deriva ma valorizza invece l'espressione artistica come traguardo delle capacità umane che a momenti sfidano anche la divinità la riscrittura dantesca del Pater Noster in Purgatorio 11 mette alla prova la coerenza di un testo che vorrebbe essere un sermo humilis ma che di fatto si propone di riscrivere la parola di Dio il Pater essendo l'unica preghiera tramandata da Cristo agli Apostoli un testo che Dante parafrasa e rende proprio di fatto modificando e adeguando il verbum domini la questione spinosa del rapporto fra umiltà la virtù protagonista di questo episodio purgatoriale e la superbia che è invece il peccato da scontare si manifesta nella scelta stilistica del poeta che mette in bocca alle anime oranti di questa balza non la versione canonica del Pater Noster che fra l'altro avrebbe dovuto essere in latino al suo tempo ma una parafrasi composta con il proprio ingegno artistico all'umiltà del sermo humilis dantesco la parafrasi discostandosi proprio di quanto genere letterario discostandosi di gran lunga dall'altezza liturgica dell'originale si sovrappone all'operazione dantesca di riscrivere in parole proprie la preghiera divina Dante fa pregare i superbi non con le parole di Cristo ma con le proprie in quanto serie di glosse che espandono e delucidano teologicamente e spiritualmente la preghiera il testo dantesco si colloca da un punto di vista retorico in una posizione umile e subordinata ma in quanto rifacimento della lingua divina in parole umane da far utilizzare alle anime purgatoriali nell'aldilà la parafrasi diventa invece un atto di superbia contro Dio ma l'antidoto a superbia usura e avarizia è l'apoteosi della povertà di Paradiso 11 versetti 64 66 e poi 71 75 dove Dante offre la rappresentazione di Francesco come sposo di Madonna povertà la quale dice Dante è stata vedova per 1100 anni fin dalla morte di Cristo dato che nessuno l'aveva voluta come sposa fino all'avvento di Francesco questa privata del primo marito 1100 anni e più dispetta e scura fino a costui si stette senza invito sì che dove Maria rimase giuso ella con Cristo pianse in sulla croce ma per chi io non proceda troppo chiuso Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso la narrazione se esalta Francesco per le sue doti di umiltà e povertà accusa direttamente quanti nella Chiesa avevano fatto la scelta contraria preferendo la ricchezza e l'opulenza il dettaglio della povertà come sposa di Cristo prima di diventare sposa di Francesco deriva direttamente dai testi della leggenda francescana e ricorre nelle ageografie di Buonaventura da Bagno Regio di Tommaso da Celano ma si fa risalire più specificamente al trattato anonimo Sacrum Commercium Santi Francisci Cum Domina Paopertate il testo del Sacrum Commercium narra della ricerca affannosa di Madonna povertà da parte di Francesco e dei suoi frati ed è corredato da tutti i topoi del genere provenzale e cavalleresco fra cui il concetto del totale asservimento del cavaliere all'amata che è conosciuto con il termine tedesco di Frauendienst e la donna amata che diventa secondo la terminologia provenzale corrente un Midons il mio signore con un interessante rovesciamento dei generi e il cui stato sociale supera di gran lunga quello dell'uomo a lei asservito Madonna Povertà porta già nel suo nome il paradosso dell'applicazione di certi stilemi dell'amor cortese alla logica mistica francescana per cui si chiama la personificazione della povertà con l'appellativo di Madonna titolo onorifico riservato alle dammigelle altolocate mentre della donna si invertono poi tutte le qualità estetiche quando Francesco e i suoi frati giungono alla sommità della montagna trovano una donna brutta consumata dalla fame spettinata e vestita di stracci tutte caratteristiche che rovesciano i topoi di bellezza ed eleganza della tradizione provenzale senza però trasformare il testo in una descrizione satirica in questa estetica del brutto scusate in questa estetica del brutto antelitteram Francesco si innamora di Madonna Povertà proprio perché essa conserva le qualità contrarie a quelle dell'amore mondano ed è chiaro dalle abbondanti riferimenti biblici del testo che la donna è anche un'allegoria della sapienza oltre che della povertà quella sapienza cioè che alleggiava nel vuoto dell'universo come unica compagna di Dio onnipotente prima della creazione del cosmo ma la povertà preparò anche il mistero dell'incarnazione come Francesco ricorda proprio al momento del loro incontro e qui cito dal capitolo 19 del Sacrum Commercium prima ancora che dallo splendore della sua patria egli venisse sulla terra tu gli preparasti un'abitazione degna un trono su cui assidersi e un talamo dove riposare cioè la vergine poverissima dalla quale egli nacque a risplendere su questo mondo e così come ha accompagnato Cristo alla nascita la povertà lo accompagna poi sulla croce cito sempre dal Sacrum Commercium al capitolo 21 tu eri con lui tra gli schiamazzi dei giudei gli insulti dei farisei i rimproveri dei principi dei sacerdoti con lui tra gli schiaffi con lui tra gli sputi con lui sotto i flagelli gli spettava la venerazione di tutti tutti lo schernivano e tu sola lo consolavi fino alla morte e alla morte di croce tu non l'hai abbandonato e persino sulla croce tu soffrivi con lui e nulla appariva in lui che gli desse maggior gloria di te come nel Sacrum Commercium in Paradiso 11 la povertà è moglie di Cristo che sale con lui al culmine del martirio al contrario di Maria che invece rimane ai piedi della croce in forma letterale tramite la condanna dell'usura dell'avarizia e della prodigalità o in forma allegorica tramite l'esaltazione della madonna povertà francescana Dante lancia un invito martellante a riscoprire la moderazione finanziaria come virtù sia laica che soprattutto direi per la chiesa del suo tempo il poeta riscontra nell'atteggiamento francescano nei confronti della povertà una soluzione alla questione dell'eccessiva ricchezza e opulenza della chiesa che gli fa risalire sempre alla donazione di Costantino l'allegoria della povertà francescana se da una parte si presenta come una critica sociale del poeta al capitalismo nascente della Firenze a lui contemporanea dall'altra ricopre la funzione poetica di fare da specchio a Beatrice la donna desiderata e da ritrovare al termine di un cammino tortuoso alla sommità di una montagna che è così come nel Sacrum Commercium la montagna che conduce alla donna amata ma che ha come destinazione finale Dio stesso vi ringrazio dell'attenzione e come avete capito il discorso è soltanto iniziato e quindi vorrei sentire poi anche i vostri giudizi in merito e vi ringrazio bene siamo noi che ringraziamo te Alessandro per questa chiara e interessante esposizione che mi fa venire in mente che la corrispondenza vizi e virtù e l'utilizzo di virtù per combattere i vizi è qualcosa che nella cultura monastica risale almeno ad evagorio o pontico oltre a essere comunque qualcosa che leggiamo ancora oggi nei trattati sulla direzione spirituale quindi diciamo che è molto a proposito questa relazione adesso è il mio compito introdurre Erminia Ardissino che in questo caso abbiamo a che fare con una dentista di chiara fama e non sapevo veramente cosa selezionare in questa diciamo sterminata biografia intellettuale Erminia Ardissino ha una formazione storica ma si è dedicata prevalentemente allo studio della letteratura italiana in relazione alla religione e alla storia delle idee si è formata all'università cattolica e a Yale e oggi insegna all'università di Torino contribuendo ad arricchire il profilo internazionale del nostro Ateneo si è interessata agli scritti biblici femminili e in ambito dantesco mi limito a ricordare il suo prezioso volume tempo liturgico e tempo storico nella commedia di Dante e presenta un intervento il cui titolo è Il linguaggio per la santità nella commedia quindi Erminia a te la parola Grazie Francesco grazie a chi ha organizzato l'evento che si manifesta sempre più interessante e utile dunque come ho già detto stamattina il poema è fondamentalmente una riflessione sulla santità c'è chi l'ha persa per sempre c'è un regno in cui la santità è in progress e c'è un regno in cui è conquistata tra i santi del paradiso di Dante molti non sono però canonizzati propriamente oggi sentiremo forse la necessità di distinguere tra coloro che la chiesa ha proclamato santi per cui ha sancito difatti santo deriva etimologicamente dal verbo sancire il culto e le figure che hanno raggiunto una beatitudine che però Dante colloca in paradiso accanto agli altri ma all'epoca come ci ha mostrato nel suo ricco studio André Voschè la distinzione fra beati e santi canonizzati era ancora assai fluida sarà proprio nel 300 dunque dopo Dante che il papato cercherà meglio di definire le qualità necessarie per riconoscere ovvero sancire la canonizzazione e autorizzare il culto in uno studio sulla santità del poema si possono quindi propriamente accomunare beati e santi canonizzati su basi storiche infatti Dante usa il termine santo in modo ampio attribuendolo anche a quanti non sono stati canonizzati le anime del purgatorio chiedono suffragi perché savacci l'ordine il sante il monte stesso è santo così come le sue cornici il cammino del viato superi purgatorio è santo cacciaguida può dire di sua madre che è or santa ma non si tratta certo di una donna canonizzata santo poi è anzitutto dio così proclamato in cielo come in terra il suo regno è santo e anche a poca distanza beato quella di Dante inoltre è una rappresentazione poetica che colloca le anime nei regni del viaggio narrato secondo l'invenzio anche se collocandole non manca di dirci i presupposti per cui hanno raggiunto tale stato Dante esprime con chiarezza le condizioni della santità in quanto prima di accedere all'empirio il viator è chiamato a rendere conto delle proprie virtù teologali quella che è l'essenza di una vita santa in un triplice esame volendo però qui focalizzarmi sul linguaggio che Dante usa nel trattare dei santi non saranno le condizioni dettate dalle virtù teologali oggetto del mio intervento eppur considerando importante ai fini di una definizione di santità quanto viene detto nei tre esami non ne tratterò in specifico la poesia di Dante è fortemente visionaria dunque molti concetti sono veicolati per mezzo di traslati che trasferiscono su un piano semantico diverso quello che sottintendono arricchendolo di una connotazione ulteriore anzi come vedremo nel caso della santità in cui i traslati sono molto ricchi e diversificati le metafori si arricchiscono di più connotazioni in quanto il principio che consente di veicolare il concetto con parole di un campo semantico diverso constiene in sé anche la ragione che ne giustifica l'uso moltiplicandone il significato nell'includere implicitamente la fonte e la condizione stessa della visione ineffabile anzitutto ma anche non pienamente fruibile dalle facoltà ancora umane del viator come detto nell'epistola candrandre a rendere indispensabile l'impiego di figure del linguaggio che veicolano quanto verisimilmente non si può dire con le parole a parte le anime del cielo della luna che hanno ancora sembianze umane tanto che il viator suppone che avrebbe potuto riconoscere Piccarda e quelle del cielo di Mercurio ancora dette ombre negli altri cieli i beati sono detti luci splendori sperule fuochi stelle lapille fiammelle ovvero viene loro assegnata anzitutto una qualità luminosa certamente l'assimilazione ai corpi celesti in quanto i beati sono visibili dal viator nelle sfere celesti può determinare in parte questa opzione ma non è certo questa la ragione principale come ha mostrato Marco Oriani la luce nella terza cantica gioca un ruolo fondamentale come emanazione divina sua visibilità sua rappresentabilità sulla base di una ricca tradizione platonica e neoplatonica di questa luminosità divina godono anche i beati anzi sono essi stessi in manifestazione della luce sovrannaturale e cito da Ariani la veste di luce è dunque il vettore privilegiato attraverso il quale la lux inaccessibilis si offre agli occhi di Dante quanto è intravisto del beato nascosto è solo un riflesso splendore di un riflesso che è il lume fine della citazione i beati sono dunque anzitutto luminosi perché Dio è luce come sono caritatevoli perché Dio è amore la rappresentazione delle anime come luce non è solo però una modalità diversa dalla rappresentazione dei dannati dei purganti che hanno dei corpi seppur fittizi che qui non ci sono ma è anche un modo per renderli parte di questo regno in cui domina la dimensione divina che non è esprimibile se non per vie metaforiche quindi attraverso immagini di cui la luce è sicuramente per la tradizione occidentale almeno la più efficace e pertinente il codice metaforico neoplatonico dell'emanazione luministica viene impiegato anche quando Dante si impegna ad esporre i misteri fondamentali del cristianesimo come la redenzione e la risurrezione persino per mostrarla di somiglianza alla frattura del peccato dice perché del lume suo poco si imbianca cioè del lume di Dio chi pecca poco si illumina è Dio stesso a essere luce fons lucis diciamo con Ariani quindi a emanarsi per mezzo di quelli che sono detti raggi orai Dio luce lume splendore in una tripartizione triadica che governa il paradiso in quanto nella luce è rappresentata la fonte la sua manifestazione il lume e gli enti deve essere trasformati ciò che splendono della sua luce non solo la sua luce opera la Deificazio in quanto organo metafisico trasumanante il corpo e l'anima del pellegrino ma i raggi divini alimentano la visibilità delle anime che ne beneficiano come si dice per Beatrice che alla fine è vista riflettente da sé gli eterni rai la veste luminosa dei beati non ha solo ascendenze platoniche ma ha anche una fonte biblica anzi più di una fonte biblica e qui riassumo un po' insomma basta pensare al proemio del Vangelo di Giovanni dove la luce è indicata come qualità divina e Cristo è detto appunto non era lui la luce ma doveva dar testimonianza alla luce concetti che poi sono passati nel simbolo apostolico in modo molto sintetico in cui si dice luce da luce inoltre nel libro della sapienza le animi dei giusti sono viste brillare nella stoppia ed è indubbio che il poeta che cita proprio questo libro in una delle rare citazioni bibliche dirette del poema a parte i salmi avesse presente questa rappresentazione dei giusti come scintille luminosi correnti come sono spesso anche le animi nei cieli danteschi di conseguenza lo statuto e gli incontri paradisiaci hanno come dominante visiva i suoi epifenomeni che sono anche il modo con cui ogni beato si assimila a dio i santi sono anzitutto illuminati arsi dall'amore divino come dice il viator al proprio antenato ma riferendosi a tutti i beati il sol che vallumò e arse col caldo e con la luce e si è uguali che tutte somiglianze sono scarse dove per indicare appunto l'inuguaglianza della distribuzione della beatitudine secondo i meriti ricorre a una perifrasi in cui poi a chiasmo è indicata la doppia mortalità trasmissiva di questa luce che risplende e infiamma di amore in modo ineguagliato la volontà divina raggiando causa anche ogni bene nel mondo si legge poco l'oltre essa appunto la volontà radiando lui cagiona ogni bene anche se l'affermazione segue la domanda che rivela l'inegualità scusate in quanto alcuni beneficiano del bene altri no qui è di nuovo impiegato la metafora luministica per spiegare l'origine di ogni bene dell'universo e la stessa fede in Dio rendere luminoso l'essere umano come viene dichiarato da Dante alla fine del suo esame sulla fede leggiamo i versi di paradiso 24 questo è il principio questa è la favilla la fede che si dilata in fiamma poi vivace e come stella in cielo in me scintilla trasferendo la luce divina alla propria interiorità pure San Benedetto rileva che invita tanta grazia sopra mere lusse grazie che gli rese possibile attirare tanti seguaci nel formare il suo ordine monastico non solo ma la luce dei beati è strumento di maturazione delle facoltà umane infatti San Giacomo dice al viator di rassicurarsi perché ciò che viene quassù dal mortal mondo conviene che i nostri raggi si maturi che vale ovviamente come modello e come azione morale di conforto per l'umanità questa luce è la potenza che ha costruito per gradi successivi il trasumanar di Dante tanto che diventa ineludibile rimanere fedele fino alla beatitudine finale e cito dal paradiso 33 a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro assetto è impossibile che mai si contenta la gioia dei beati si esprime permesso di una cresciuta luminosità infatti Giustiniano prima del suo lungo discorso alla domanda di Dante si dice fessi lucente assai più di quel che l'era mostrando la gioia nel rispondere folchetto da Marsiglia appare a Dante desideroso di parlarvi e proprio per l'intensità del suo splendore qual fin balasso in che lo sol per quota per cui il poeta commenta per letiziarla su fulgor s'acquista la condizione dei peati come luci non muta tra l'altro dopo la risurrezione dei corpi come spiega nel suo discorso Salomone rispondendo alla domanda del viatolo che viene detta però da Beatrice diteli se la luce odde si infiora vostra sostanza rimarrà con voi eternalmente siccome è le ora dando occasione a un'elaborata ma ricca e limpida risposta che valorizza il corpo e gli assegna preminenza senza negare la persistenza della luce dell'anima la domanda di Dante sullo stato dei corpi dopo il giudizio universale come espressa da Beatrice se la luce onde si infiora vostra sostanza rimarrà eccetera mostra già ampiamente la supplimità dei metaforismi del paradiso che si incastrano l'uno nell'altro si incatenano in sistemi complessi la luce infatti si infiora introducendo un'altra modalità tra le più diffuse con cui sono detti rappresentati i santi danteschi che sono rose fiore frondi foglie nell'insieme sono giardino sempiterna primavera rose sempiterna o candida rosa termini tutti florali o floreali che veicolano un'idea di bellezza anzitutto unita a quella di prosperità vitalità perenne ma anche di dipendenza da un coltivatore che le ha cresciuti come tale per portare fiori e frutti vero frutto verrà dopo il fiore si ricorda anche che Dio è chiamato l'ortolano eterno l'agricola la rosa è espressione dell'armoniosa e amorosa concordanza che anima le luci paradisiache ad essa è oltretutto connesso il profumo la rosa è sempiterna che si digrada e dilata e redole odor di lode al sol che sempre verna questa condizione di dolcezza della vista e dell'olfatto dà ulteriore sviluppo alla metafora con cui era indicata la missione apostolica e la modalità con la quale viene diffusa la parola del Vangelo gli apostoli e i primi santi sono paragonati infatti a Ligigli e leggo da Paradiso 23 Ligigli al cui odorsi presi il buon cammino Chiavacci Lonardi ricorda questo proposito che il profumo dei santi ha un fondamento scritturale perché in San Paolo si legge Christi bonus odor sumus la seconda lettera ai Corinzi eppure nell'Ecclesiaste si trova questa raccomandazione florete flores quasi lillium date odorem anche in questo caso il linguaggio metaforico attraverso cui Dante coinvolge i sensi del lettore in una narrazione dove le percezioni sensitive tranne viste a udito sembrerebbero fuori luogo a fondamento biblico l'opera di evangelizzazione è garantita anche dalla dolcezza della parola e dal suo fascino di conseguenza la profumazione della rosa è modalità epifanica che si fonde con la luminosità ma se l'apparenza dei beati è offerta sotto specie luminose floreale il loro insieme è dato molto specie sotto veste politica come corte aula collegio addirittura imperio in molti passi del paradiso si parla di corte celeste che ha pure i suoi principi e dignitari Pietro e Baron Giacomo e principi i beati sono gran patrici e ovviamente il suo re Dio che è detto appunto imperatore o re la corte infatti non è solo il luogo della politica ma anche della vita cortese della condivisione a livello più alto della società e non per nulla i beati sono gli eletti allo stesso campo semantico ma con una connotazione lievemente diversa appartiene anche alla definizione di popolo civi città milizia tutti i termini usati da Dante per il paradiso quest'ultima milizia ha anche qualche addentellato con gli eserciti di Dio come nell'inno che Giustiniano intona alla fine del suo lungo discorso esaltando appunto il Sanctus Deus Sabaoth il Dio degli eserciti frequente immagine divina nella Bibbia impiegato nei libri storici ma anche dei profeti nell'Apocalisse ha invece una lunga tradizione classica e cristiana il termine popolo usato per i beati in Paradiso 31 qui sono stati tra l'altro aggiunti importanti qualifiche cioè i beati sono il popolo giusto e sano che indicano la perfetta comunità dei beati detta da Beatrice nel canto precedente nostra città così come i suoi abitanti sono civi attingendo a immagini assai note dalla tradizione cristiana che derivano sia dalla visione della Gerusalemme celeste dell'Apocalisse ma anche dalla riflessione di Agostino che apponeva Roma alla Civitas Dei come qui Dante oppone Firenze al popolo giusto e sano qui come in Agostino che peraltro attinge a Cicerone il popolo è unito da un fondamento di giustizia e costituisce la vita sociale il santoro pur il popolo giusto e sano alla natura di consesso organizzato e ordinato anche se non ruota intorno ad un re ma si costituisce sulla base di principi comuni che sono la salvezza e la giustizia il paradiso è infatti imperio giustissimo e pio il popolo dei beati non è il popolo di Israele prediletto da Dio regolato dalle leggi di Mosè ma è congregazione formata sull'amore e sulla giustizia divina che ha raggiunto la salvezza tramite Cristo e ora negote in perfetta armonia amore la natura anche politica della candida rosa appare dunque in tutta la sua forza perché è contrapposta a Firenze come non c'è giustizia dove non c'è giustizia neppure salvezza il paradiso è anche indicato con i sensi più fisici del gusto e del tatto il primo è coinvolto laddove i beati sono detti sodalizio letto alla gran cena del benedetto agnello il qual vi ciba che è una metafora di lunga durata e ampio valore chiamandosi il platonico convito sapienziale come usata anche per il titolo dell'incompiuto trattato filosofico di Dada Dante sia l'Eucaristia e la sua istituzione dove Cristo si dichiara cibo e bevanda per la salvezza sia la visione di Apocalisse 19.9 dove i peati sono chiamate la gran cena delle nozze dell'agnello anche nei versi incipitari del ventiquattresimo canto del paradiso che preludono all'incontro con San Pietro Dante parla di cibarsi delle briciole che cadono dalla mensa come di ciò che può essere sufficiente a chi ne è degno per grazia di Dio questi prelibati quel che cade dalla vostra mensa riprendendo evidentemente ancora il Vangelo di Matteo che racconta della Cananea che convince Gesù sulla base proprio di un diritto così per dire insomma le briciole che cadono da una mensa come già si esprimeva anche Dante in convivio dove egli forniva le briciole di quel sapere filosofico a chi era stato meno fortunato nell'accedere alla conoscenza inoltre Dante associa il mangiare il pan degli angeli anche al bere che richiama l'acqua che disseta per sempre di cui parla Gesù alla Samaritana come ricordato all'avvio di Purgatorio 21 dove si indicava anche il paradiso come il luogo dove si gode tanto del bere quant'è grande della sette Beatrice nella sua preghiera che precede gli esami di Dante invita i santi a rorare il viator a innaffiare il viator impiegando la metafora dell'acqua che ristora assai presente nella Bibbia questa metafora ha anche un valore tattile quando è impiegata per indicare la grazia divina che scende come benefica pioggia modalità rappresentativa che si associa anche allo stillare della speranza dalla lettera di Giacomo che poi il poeta stilla in altri infatti nel paradiso 25 si legge in altrui vostra pioggia vostra di San Giacomo un repluo se queste metafore dalla luce ai fiori ai frutti alla città alla milizia al chiostro al convito al bere rappresentano l'essenza della santità nel godimento della beatitudine perché l'essenza del paradiso è condizione della visibilità di Dio la carità ne presenta l'intima sostanza anzi in paradiso a dominare la condizione caritatevole dei beati al presente e nella memoria della loro vita fin dal discorso di Piccarda la prima anima beata incontrata al paradiso è questa virtù teologale a caratterizzare i santi e non potrebbe essere diversamente poiché la carità coincide con la definizione di Dio come amore non solo Dio è l'amor che muove il sole e le altre stelle ma in molte occasioni in coerenza con la prima lettera di Giovanni e tutta la mistica medievale con Bernardo in primis si offre la visione di Dio come amore e si sottolinea la natura amorevole di Dio verso il creato le altre virtù deologali non hanno grande spazio nella definizione della santità e della vita beata non sono più necessarie nella speranza nella fede perché si ha la certezza e per la loro condizione i beati sono da Dante qualificati prossimi familiari a Dio come poteva attingere ai Vangeli e soprattutto alla letteratura cristiana mistica anzitutto le anime sante godono dello sposalizio mistico della condizione di spose come è tutta la chiesa che Cristo disposò col sangue benedetto per cui i beati sono quella milizia che nel suo sangue Cristo fece sposa lo sposalizio mistico era condizione suffragata dalla lettura non solo del cantico dei canzi ma anche dei Vangeli anche Dante quando pensa alla condizione perfetta di amore pensa allo sposalizio dell'anima con Cristo come dice anche in Paradiso 32 che Cristo perpetue nozze fa nel cielo o in Paradiso 30 quando Beatrice annuncia a Dante la beatitudine lo dice sotto forma di invito alla cena duziale prima che tu a queste nozze ceni i Santi sono la famiglia dell'Alto Padre San Francesco il suo fusillo ovvero si è fatto come uno di quei piccoli cui appartiene il Regno dei Cieli come Gesù raccomanda diversi luoghi del Vangelo non viene però mai rivendicata la figliolanza divina che è riservata alla seconda persona della Trinità il figlio cioè Dante non usa questo diciamo figliolanza per indicare i beati semmai i beati sono spiriti pi buoni spiriti attivi sante creature gli eletti ben finiti che hanno faticato per raggiungere la condizione di santità e perciò sono ora vere sostanze illuminate pagate da vera luce che determina l'essenza ontologica del paradiso che è paese sincero non solo è evidenziato come la santità generi pace nella volontà di Dio ma anche gioia piena letizia piacere e dolcezza molte sono l'occasione in cui è indicata questa condizione di festa della corte celeste e su questa metafora poi mi avvio a chiudere non solo il viaftor assiste al trionfo di Cristo e di Maria ma i beati sono anche metaforizzati proprio come trionfo turba trionfante addirittura trionfo che lude rappresentando ovviamente la chiesa trionfante che ora gioca sul modello del suo fattore che è un fattore lieto come dice in purgatorio fin dal primo cielo nella rivelazione di Piccard si dichiara subito in una sciolta terzina che però è un agglomerato di complessi concetti teologici che i beati gioiscono dei nostri affetti che sono infiammati dice Piccard da son del piacere dello spirito santo Letizian del suo ordine formati e di lei il fratello Forese aveva già detto in purgatorio che triunfa lieta nell'alcoli olimpo già di sua corona fiamma amore piacere letizia il recupero del linguaggio poetico amoroso è funzionale nel poema la rappresentazione dalla condizione dei beati che concordano nell'ordine del soffio divino e di esso godono la condizione di letizia e piacere ribadita di frequente attraverso i cieli dalle anime incontrate che peraltro la manifestano anche nei loro movimenti e canti così come lo sfavillare della luce i beati sono diverse voci che fanno dolci note guaccia guida è detto artista tra i cantori del cielo e in una bella similitudine i beati sono detti risorgere con l'espressione la rivestita voce alleluando la loro gioia è manifestata ovviamente con un accrescersi della luce come si vede nell'avvicinarsi dei beati del cielo di mercurio vedeassi l'ombra piena di letizia nel folgor chiaro che di lei usciva il fenomeno è poi spiegato poco oltre nel cielo di venere dove folchetto di marsiglia che attende di parlare dopo cunizia è metaforicamente indicato proprio come l'altra letizia a proposito della quale poi il poeta spiega la condizione dei beati per cui la luce è proporzionale alla gioia per letiziarla su fulgor s'acquista sì come il riso qui mettendo in campo un'ulteriore modalità di dire la beatitudine ovvero dimostrarla come il riso che può essere il sorriso di Beatrice che si accresce con l'inalzarsi nei cieli o il riso dell'universo tutto come il viator percepisce dopo i tre esami al canto del gloria ciò che cito dal canto ventisettesimo ciò che io vedeva mi sembiava un riso dell'universo mi seguono una serie di esclamazioni che inneggiano la felicità della beatitudine o gioia o ineffabile allegrezza o vita integra d'amore di pace o senza brama sicura ricchezza dove ogni elemento riprende una delle condizioni che indicano la santità come raggiunta il riso viene poi ribadito anche più avanti come condizione della vita beata la felicità del regno dei cieli è poi indicato con altre metafore come festa gioco gaudio miro vive al lieto sicuro e gaudioso regno esser giocondo insomma dei beati che il viato vede nella candida rosa sono dette insieme queste qualità alla vista della vergine vede a loro giochi e a loro canti ridere una bellezza che letizia era negli occhi a tutti gli altri santi gli occhi dei beati sono pieni di letizia quindi la santità genera piacere dolcezza e per ben tre volte Dante indica la beatitudine paradisiaco come dolce vita dove l'identica ripresa dello stesso sintagma che piacque tanto a Fellini ne indica la pertinenza e la consapevole scelta il paradiso è ovviamente luogo di dolcezza come gli rivela già Piccarda rivolgendosi a lui o ben creato spirito che ai rai di vita eterna la dolcezza senti dolcezza che ha qui un raggio semantico assai ampio indicando una dotazione sensibile ma anche terapeutica oltre che musicale e retorica la beatitudine indica uno stato di intenso godimento dei sensi la dolcezza è percepita da tante per la vista l'udito l'olfatto il gusto il tatto cioè veramente sembra incredibile che nel paradiso ci siano tutti i sensi ma ci sono per via metaforico ovviamente il dolce frui è anzitutto e alla fine di tutto spirituale divenendo da piacere estetico a occasione di estasi percepibile per mezzo di esperienze sensibili si tratta di una dolcezza diversa da quella approvata in terra in purgatorio perché derivata dall'emanazione divina dunque è una dolcezza sostanziale la dolcezza così strettamente legata alla santità ne è una conseguenza e qui chiudo perché ho occupato già abbastanza tempo grazie bene grazie grazie Mignardissino per questo intervento estremamente ricco articolato e approfondito io in effetti volevo anche dire che circa il problema iniziale che hai suscitato è il fatto che molti di questi personaggi sono santi per Dante direi che questo è tuttora un problema per la Chiesa Cattolica di cui si è occupato anche Marco Papasidero cioè il problema dei processi per equipollenza e come si fa a riconoscere la santità di un culto che c'è è riconosciuto ma nessuno però lo ha sancito formalmente come hai detto tu questa sanzione e in effetti poi è un problema in cui mi sono imbattuto anch'io con Pier Damiani perché Pier Damiani è stato riconosciuto santo soltanto nel 1600 e proclamato dottore della Chiesa nel 1800 quindi non era santo quando Dante scrive era oggetto di un culto locale probabilmente anche in via di esaurimento perché dopo neanche una generazione già Petrarca e Boccaccio fanno fatica a ritrovarlo per l'ultimo intervento di questa sessione e anche della giornata si prepara a parlare Magdalena Maria Cubas che è assegnista di ricerca presso la nostra Università di Torino dove conduce uno studio dedicato alla rappresentazione della santità nella narrativa italiana Magdalena Maria Cubas si è laureata in italianistica presso l'Università Iagellonica di Cracovia e nel 2011 ha conseguito il suo dottorato di ricerca in filologia storia della lingua e storia della letteratura italiana all'Università per stranieri di Siena ha poi lavorato in ricerca presso l'Università di Varsavia è componente del comitato editoriale della rivista Quaderni del Novecento e anche per lei ricordo mi limito a una sola pubblicazione e ricordo che ha scritto il volume Litanic Verse Italia che è dedicato alla presenza della litania nella poesia italiana dalle origini del Novecento e quindi anche oggi ritornerà su questo tema della litania con l'intervento la commedia le litanie e i santi quindi do senz'altro la parola a Magdalena grazie di questa presentazione grazie ai predecessori che sono stati veramente bravi e anche esaurienti su alcuni argomenti che mi piacerebbe forse discutere ancora se riusciamo ad avere un po' di tempo dunque intanto inizio il tema intorno al quale ruoterà la nostra breve indagine è quello che appare centrale nel titolo qui ha le litanie dei santi che è quella della Vergine nella commedia possono essersi conservate in più modi a mio parere ad esempio in maniera esplicita a livello citazionale ricordiamo il frammento del XIII del Purgatorio in cui Dante svela sente la litania recitata dagli invidiosi la stessa litania come genere discorsivo rappresenta molto di più racchiude un'intera Weltanschauung una concezione del mondo che ha un certo tipo di origini si formò in una certa epoca storica per influire successivamente su altri generi liturgici letterari come ha avuto modo di dimostrare in una serie di ricerche precedenti sulle quali non mi dilungherò e per poter includere le molteplici forme ed espressioni in cui l'influsso delle litanie si manifesta a livello formale semantico a livello del significante e del significato spesso preferisco parlare della litanicità come carattere parlando dell'influsso delle litanie sulla letteratura dobbiamo focalizzare alcuni elementi del genere e a grandi linee anche la sua storia l'operazione è utile anche per la commedia l'analisi che presento in seguito è la prima tappa in realtà di un lavoro più ampio che comprende alcuni elementi della commedia visti alla luce di una parentela vicina o lontana con la litania e la sua concezione del mondo sebbene la litania abbia esercitato un grande influsso ad esempio sulla letteratura in generale soprattutto nel medioevo ma anche in seguito la sua stessa evoluzione è poco nota e confondono con molta facilità i due rami principali della tradizione litanica iniziamo quindi da una rassegna sistematica la isania è una preghiera cristiana liturgica o paraliturgica normalizzata nel periodo successivo al concilio di Trento nei tempi moderni ammessa per una recitazione privata anche per una recitazione privata fa parte di alcune ricorrenze liturgiche e di celebrazioni straordinarie rispetto a una serie di invocazioni e suppliche le prime sono indirizzate alla Vergine ai Santi e per loro intercessione a Dio dopo la normalizzazione tra il XVI e il XVII secolo la parte delle suppliche a Dio è presente soltanto nella litania dei Santi di cui costituisce la parte finale in cui i fedeli per l'appunto si rivolgono direttamente a Dio è tipico il carattere numerativo dei testi litanici mentre l'esecuzione coinvolge di solito un ufficiante che dialoga con una comunità in una suddivisione dei ruoli che si dice responsoriale l'ufficiante elenca mentre la collettività risponde con la formula fissa ad esempio ora pronobis oppure terogamus audinos le litanie nascono in latino e in questa veste arrivano al concilio di Trento alcune addirittura al concilio Vaticano II dopo il quale suggeranno delle modifiche tuttavia nell'epoca del grande fermento dei vulgari furono le citate riportate e sono riportate in manoscritti anche le litanie ad esempio in Toscano la litania ha due vie linguistiche una cosa di cui parlerò dopo la storia della litania si divide in due grandi rami quello relativo alle litanie dei santi e quello che riguarda il gruppo non del tutto omogeneo delle litanie alla vergine gli studiosi concordano sul fatto che l'origine della litania dei santi è da collocare nel Medio Oriente dove furono ritrovati i prototipi testuali più antichi le litanie diventano tai nel passaggio in occidente grazie alla traduzione dei testi originali la litania dei santi arrivò a Canterbury nel VII secolo d.C. come frutto di un'evoluzione della liturgia antichiana l'impulso alla nascita dell'Itania aquilaese nota anche come veneziana e più tardi nasceranno le litanie lauretane è innescato dalla traduzione dal greco al latino dell'inno a Catisto la Genesi e la struttura di queste preghiere come le conosciamo in Occidente dal tardo o medioevo in poi non è legata ai ritiri liturgici delle litanie o litanie o letane che erano le processioni con le erogazioni nella stessa epoca nelle liturgie della chiesa continentale quindi a Roma a Milano a Vienna e non mi soffermerò sulle questioni legate a questa problematica varentela aggiungo solo che nel medioevo che nel medioevo italiano vi fu proliferare di tani alcune precocemente anche in lingua volgare torniamo all'origine della preghiera utilizzando una metafora un concetto della biologia Vito Stadowski che attualmente tra i massimi studiosi del genere litanico distingue tre geni che fondendo in condizioni favorevoli diedero vita alla litania il primo elemento è lectenia nel rito bizantino è una preghiera liturgica di grande importanza è composta da una serie di orazioni per diverse necessità la recitazione è rigidamente inquadrata ed è obbligatoria alla tecnica responsoriale il presbito elenca le intenzioni e nei momenti opportuni a un segno esplicito di quest'ultimo il popolo risponde con un Kyrie Eleison nella lingua di riferimento quindi chiaramente ad esempio nello Slavo Ostodosso si risponde con una formula in plavo nella liturgia romana questo elemento è noto come Horatium Fidelium cioè Signore Pietà Cristo Pietà Signore Pietà ripetuto il Kyrie questo è sicuramente presente nei tempi di Gregorio Magno fu forse lui ad aggiungere in vocazione centrale il Christel Eleison ignoto nelle fonti greche è presente nel sacramentario gelasiano redatto alla fine del V all'inizio del VI secolo e il Kyrie apre ogni litania inoltre la litania dei Santi dopo l'elenco degli intercessori contiene una serie di orazioni sempre di tipo di carattere ecteniale il secondo elemento è il hairetismo dal greco haire si tratta di un saluto contenuto nell'inno a Catisto attribuito al romano il melode l'inno di cui sopra chiamato anche grande a Catisto è una preghiera composta di parti narrative inframmentate dai lenti versificati di antonomaggi mariane la scena rappresentata nell'inno e l'annuncezione ogni antonomasia è preceduta dal saluto che in questo modo si ripete all'inizio di ogni verso o la traduzione dell'inno eseguita nell'anno 801 da Cristoforo I Vescovo di Olivolo vicino a Venezia a dare l'impulso alla nascita delle litanie mariane nella slide potete vedere un frammento della versione latina dell'inno e ho accostato anche un frammento delle litanie mariane nella veste più antica quella per l'appunto veneziana osileiesi e in basso un frammento delle litanie lauretane possiamo vedere in sintesi l'evoluzione della preghiera con la contrazione dell'elemento cairetismico più esplicito tuttavia a livello semantico quello stesso elemento si preserva nel carattere delle invocazioni antonomali e mariane il terzo gene della litania è la polionimia che permette di generare gli elenchi che sono la parte più riconoscibile della litanie elenchi di nomi epiteti e perifrasi si tratta di un elemento presente nelle litanie solari o litanie di ra dell'antico egitto anzi alle preghiere che accompagnavano le anime nell'aldilà e che sono state ritrovate nelle tombe dei faraoni sepolti tra il quindicesimo e il dodicesimo secolo avanti cristo il gene polionimico compì un grande viaggio nel tempo e nello spazio passando nella cultura di preghiera giudaica molto in sintesi nella scrittura biblica in sali per approdare all'ideologia del cristianesimo antico infatti nella slide potete vedere un frammento una sola delle 75 invocazioni delle litanie solari e la preghiera di Azari è quindi il cantico dei tre giovani alla fornace che è un frammento biblico naturalmente la fusione dei geni fu consolidata in una ricchissima tradizione testuale il cui successo è forse legato alla capacità di permettere diverse configurazioni formali e per così dire genetiche i tre geni possono essere combinati in parte o tutti insieme la coesione del genere è assicurata da ciò che Vito Sadossi descrive come una visione di tipo litanico particolare e marcata che cito può essere riferita a una concettualizzazione del mondo e una prospettiva sulla vita e cita ancora un meccanismo di mediazione tra letteratura e vita in eccitazione per ciascuno dei tre geni si può presentare un collegamento con la commedia lantesca i riferimenti possono manifestarsi in forma diretta come un intertesto o in forma meno evidente come una ripresa che si attua solo sul lato del significante o su quella del significato e quindi qui ho elencato i punti in cui secondo me nella commedia si attua una parte si attua un qualche tipo di vita di cita ecco quindi l'intertesto appare nel purgatorio nel canto 13 possono essere ripresi alcuni settori dello spazio-tempo litanico quindi attraverso le strutture anaforiche e numerative ed invocative che coinvolgono le catene nominali e qui parliamo del canto 12 del purgatorio del 19 del paradiso e in quei casi abbiamo a che fare con un espediente formale che esprime la litanicità con il significante che si riempie di elementi non litanici poi abbiamo le invocazioni alla vergine attuate in forma di epiteti e di attributi mariani che sono calcati sull'antonomaglie litaniche come nel trentatresimo del paradiso in apertura dell'ultima preghiera di Dante insieme abbiamo un'espressione dello spazio-tempo simile a quello litanico privo di riferimenti formali diretti e nella semantica una semantica particolare una configurazione semantica particolare si può rintracciare un legame con la concezione del mondo alla base della litania quindi legata al neoplatonismo cristiano a pseudo di Enigia Europa Gita e un legame con la lauda ballata diffusa dalle confraterniche dei laici testando ai nostri studi veicolavano il passaggio dell'antonoma via litanica nella poesia volgare e qua parliamo del paradiso dal decimo al quattordicesimo passiamo ora all'analisi partiremo dal momento più contaminato dal punto di vista litanico altri punti per motivi di tempo devono essere rinviati ad analisi future per introdurre brevemente la situazione narrativa del trentesimo del purgatorio ricorderò che siamo nella seconda cornice luogo di penitenza degli invidiosi lo spazio è descritto come vuoto e cito con l'ivido color della petraia al verso 9 del canto fine citazione con il livore che secondo il commento riflette il tipo del peccato da espiare Dante e Virgilio camminano verso la luce l'interazione con i penitenti è preceduta da un'invocazione a una preghiera al sole ne parliamo dei versi 16-21 enunciate da Virgilio che vedete nella è un momento che precede la situazione in cui sarà utilizzato l'interfesto litanico un elemento che pur non coinvolgendo direttamente le litanie riflette le radici antichissime di questo tipo di preghiera inoltre anticipando le costruzioni del paradiso agisce senz'altro anche qui la visione della luce divina di Pseudo Dionigi Areopagita ma torniamo alla situazione narrativa dopo il vol degli spiriti che sono percepibili solo attraverso le parole d'amore che dicono ricordiamo che sono espressioni d'amore gratuito con due esempi del Vangelo e un esempio del mondo antico quindi Dante sente le brevi frasi di Maria di Oreste e di Gesù di Orsidio invita Dante ad aprire bene gli occhi la schiera degli invidiosi è vestita con manchi cito con manchi al color della pietra non diversi in eccitazione parliamo dei versi 47-48 i commentatori sottolineano la vista come l'elemento principale di questo canto invece nel momento dello sguardo attento si riattiva anche la percezione uditiva e poi che fumo un poco avanti udia gridare Maria ora per noi gridare Michele e Pietro e tutti i santi vi è un gruppo di persone indistinte vestite in sai color livido vi sono le litanie dopo un attimo di immobilità riprende il movimento e si riattiva e si riattiva la vista Dante si avvicina vede il gruppo degli spiriti ammassati tra loro e stretti contro la cornice e questa alternanza tra vista e udito è l'elemento tipico di questa stoffa purgatoriale nasce quindi prima la metafora dei ciechi che chiedono l'elemosina e poi la descrizione da fin dell'orrore devo dire delle palpebre cucite che ricorderemo tutti è un'immagine attraente ma noi vogliamo tornare alla litania direbbe i nostri andanti semplicemente sentono un frammento di essa passando accanto al gruppo dei ciechi invidiosi a prima vista sembra un intertesto liturgico o paraliturgico come altri non è così possiamo dirlo leggendo con attenzione i santi elencati in ciò che arriva alle orecchie di Dante rispetto alla litania nella sua veste completa o anche quella accorciata adeguata ad alcune celebrazioni sacramentali della chiesa manca comunque l'introduzione il chirie curiosamente non appaiono neanche le invocazioni alle persone della trinità una grande preoccupazione dei poeti spirituali che avevano preceduto Dante nel 200 una questione di cui ha parlato Donato Pirovano che ha toccato Donato Pirovano ha toccato stamattina la prima invocazione alla Vergine segue la formula di risposta che nelle condizioni liturgiche è recitata dai fedeli poi l'arcangelo Michele e San Pietro ora normalmente i santi nelle litanie sono divisi in gruppi quindi c'è il gruppo degli apostoli quello dei padri della chiesa dei martiri delle vergine eccetera quei tre nomi che leggiamo nella commedia sono nel nostro canto sono situati al primo posto nei gruppi di riferimento quindi Maria come se sostituisse il gruppo delle invocazioni alla Madonna che prosegue con adesso io cito la versione latina Sancta Dei Genitric Santa Virgo Virginum eccetera Michele sta per tutto il gruppo degli arcangeli che conclude con Omnus Sancti Beatorum Spiritum Ordine dopo il gruppo dei Patriarchi e Profeti inizia l'elenco che è saltato risulta saltato in questa litania dantesca inizia l'elenco dei Santi Apostoli Sancti Apostoli ad Evangelista che parte per l'appunto da San Pietro la litania dantesca è chiusa da tutti i Santi una contrazione di Omnus Sancti e Sancti Dei possiamo dire perciò che la preghiera appare sintetizzata come se fosse una sinedope i nomi elencati sono una pars protote ciascuno di essi sostituisce alcuni gruppi delle litanie dei Santi e se il tempo purgatoriale non è molto dissimile dalla percezione che gli esseri umani hanno durante la vita come possiamo interpretare il momento del grido litanico questo che stiamo analizzando in Dante la litania bisogna dirla un'estensione e un andamento che non sono adeguati al tempo della narrazione né alla versificazione e anche altre preghiere purgatoriai sono riportate per frammenti ma nel caso della litania la drammaticità della descrizione in cui il verbo gridare che non è recitare ripetuto in due versi consecutivi corrisponde a una scelta di un frammento brevissimo che assicura sì il riconoscimento della preghiera abbreviata attraverso alcuni dei suoi tratti costitutivi dalla terzina successiva si insiste di nuovo sulla vista sul movimento di avvicinamento agli spiriti di questa cornice la compassione del narratore nei loro confronti deriva da ciò che Dante vede e sembra solo rafforzata dal commento di Agridar l'impatto di tutto il tavolo non viene solo dal ricorso alla preghiera ritannica gli ingredienti sono diversi sono più di uno e di pari importanza è interessante notare che gli elementi ripetitivi della ritannia sono ridotti al minimo l'ora per noi appare una volta sola di fronte alla triplice invocazione ai santi garantendo la presenza del gene ecteniale quello della supplica sebbene manchino le qualifiche santo santa i nomi da soli possono sintetizzare lo abbiamo detto i geni airetico e polionimico vorrei aggiungere una chiosa riguardo alla versificazione nella recitazione delle isanie perché questa specie di versificazione presenta uno schema sempre riconoscibile sebbene non sia uno schema fisso la configurazione invocazione ripetizione in condizioni normali aiuta l'orecchio dei fedeli a prendere parte alla preghiera invece sembra un elemento poco utile nella terzina dantesca che è rigidamente inquadrata in uno schema metrico erimico nel frammento del purgatorio che stiamo analizzando l'espunzione degli elementi ripetitivi trasforma la litannia al posto di un andamento monotono l'elenco diventa incalzante ne deriva un'altra brevissima chiosa grazie all'uso della rima sono tostate le parole ombre con manti e tutti i santi qui si apre la possibilità di incrociare un elemento esplicitamente litanico con le fonti visive della commedia come appurato negli studi danteschi le cupole bizantine come quella ad esempio di Ravenna possono essere state un riferimento visibile nella costruzione del paradiso quelle stesse cupole sono un'espressione visiva delle litanie come dice Sadorschi con questo voglio indicare come un elemento certo la comunanza della concezione del mondo litanica tra la concezione del mondo litanica e la costruzione d'antesta i cui elementi risultano anticipati dal paradiso al purgatorio ebbene sarebbe da indagare un legame più diretto tra le litanie visive e l'universo della commedia non è l'obiettivo del contributo che presentiamo in questa sede tuttavia non possiamo fare a meno di notare che nelle decorazioni musive i santi vestono il mantello come le anime degli invidiosi dato che il dante il termine manto appare sia in senso metaforico sia in quello letterale di sopravveste aggiungiamo che nel frammento in questione si tratta di un indumento al pari del manto di Beatrice che appare a Dante nel trentesimo del purgatorio nel paradiso terrestre infatti in Beatrice si uniscono maggiormente l'umanità e la santità l'umanità che Dante autore empirico aveva visto originale nello spazio e nel tempo terreno ed è ciò che è risemantizzato nella commedia in termini del sacro ciò che a sua volta risemantizza il resto del sacro rappresentato nell'opera sembra importante infine accennare al problema della lingua forse è meglio che a mia via le conclusioni sto guardando qui chiedo chiedo a Francesco perché effettivamente forse è meglio sì dovendo anche fare una discussione forse è meglio però diciamo che sei stata perfettamente nei tempi fin qui va bene scontiamo quel ritardo fisiologico in decine di minuti va bene brevisivamente veramente le conclusioni per concludere torniamo al breve inserto litanico la litania in sintesi o persi in epoche si presenta come un intertest esplicito e funzionale alla compassione che nel lettore deve suscitare l'atmosfera desolata del luogo di penitenza in fronte a litanica all'interno del canto è rafforzata dall'invocazione al sole che precede la litania la rilevanza della presenza litanica aumenterebbe se collegassimo le analisi del tredicesimo con gli ellenti antonomastici ed anaforici del canto precedente tornando al nostro intertest si può parlare credo di una sua funzione dialogica anche se la litania che appare puntualmente e per un breve momento non viene sviluppata in la liturgia perché manca l'attenzione alla gestualità al modo di recitare manca la suddivisione dei ruoli ad esempio una delle caratteristiche del genere è invertita l'apparente monotonia conosce una trasformazione dinamica assieme agli altri elementi percepiti attraverso l'udito la litania è un cenno ma un cenno incalzante che arricchendo la rappresentazione principale aumenta l'inquietudine del lettore vi ringrazio grazie a tutti Grazie a tutti.